Il nostro studio si intitola Voci nella tempesta, è uno studio che parte da un punto di vista femminile e sui profughi, quindi da quando scoppia la prima guerra mondiale e i profughi trentini sono costretti ad andare in Austria. Le vicende saranno tre storie di donne che si intrecciano, le voci appunto di queste donne che con forza reagiscono alla situazione e ci sarà un passaggio, uno studio su quello che è l'idea dei profughi nel 1914 fino al 2014.